Ciao a tutti, sono Mariano Silletti, mi occupo di fotografia documentaristica dal 2013, sono qui a Lodi al Festival della Fotografia Etica perché è esposto il mio lavoro, che parla di uno dei tanti borghi rurali costruiti negli anni 50 a seguito della riforma agraria. Lo scopo della riforma agraria era quello di costituire una classe di proprietari terrieri economicamente autosufficienti, ma questo progetto fa lì presto, infatti la zona fu colpita da una massiccia emigrazione e quindi molti dei residenti hanno dovuto lasciare questo borgo per emigrare soprattutto nel nord Italia. Questi scatti raccontano la vita di queste persone ma guardano soprattutto anche all'ordinario, quasi nulla che non siamo più abituati a vedere. Per me si è trattato di documentare le insignificazioni che poi non sono tali, l'intimità della vita di queste persone che hanno deciso in parte di conservare le tradizioni dei loro genitori occupandosi prevalentemente di agricoltura.